Ehi tu, si dico tu, vuoi fare il cantante? No, io suono la chitarra. Fantastico, sono sicuro che hai una bellissima voce. No, per niente. Allora, cosa stai aspettando? Canta una canzone. Ma non ho il microfono. Non ti preoccupare. Ecco il microfono che cercavi, il Sennheiser XS Wireless 2. Sì, ok, però servirebbe un mixer. Oh, hai detto un mixer? Cosa ne pensi di un bellissimo RCFL pad 12 canali? Puoi cantare al karaoke oppure accompagnarti con la tastiera o una chitarra? Che bellissimo, però servirebbe una cassa. Non ti preoccupare. No, ce l'ho la cassa, ce l'ho. Spero che sia una RCF ART 732A da 1400 Watt di potenza. Eh sì. Con il DSP Crossover Control? Sì, sì. Quella con il punto di crossover a 800 Hz? Non li ho contati. Molto bene. Avvicinati. Tieni, ti devo dire un segreto. Questi articoli sono in B-stock e i prezzi sono molto bassi. Ma se prendi il codice segreto e lo inserisci sul sito di Merula, hai un ulteriore sconto. Ma non sei contento? Sì, contento. Bene, allora vai sul sito, inserisci il codice prodotto, poi il codice segreto e goditi lo sconto. E adesso puoi cantarci una bellissima canzone. Ok, ok.